Buongiorno ragazzi e bentornati sul canale. So che vi sono mancato, vero? Purtroppo mi dispiace davvero di non aver potuto caricare dei video nelle ultime settimane, ma sono stato veramente occupatissimo con altre cose, principalmente di tipo appunto familiare e quindi ho dovuto dare delle priorità. E come potete ben capire appunto caricare dei video non è stato sicuramente una delle mie proprietà in questi giorni. Comunque detto questo, allora di cosa andremo a parlare in questo video? Voglio andare a introdurvi a uno dei corsi che appunto sto prendendo in questi ultimi mesi appunto su Coursera, quindi la piattaforma di e-learning, una delle più utilizzate, le più gettonate, sulla Google UX Certification Program. E andremo a vedere appunto principalmente come è strutturata, quindi andremo a vedere passo a passo appunto come questa Google UX Certification è strutturata e andremo poi a discutere un po', appunto vi proporrò quello che è il mio parere sul corso. Quindi se siete interessati, come sempre vi chiedo di iscrivervi al canale, di mettere un bel like, di mettere un bel commentone, di shareare ovviamente con i vostri amici e that's it, let's get started! Ed eccoci qua all'interno della piattaforma di e-learning Coursera, appunto la piattaforma su cui poter prendere questa certificazione Google UX Design Certification appunto. Come possiamo vedere appunto, questo è il corso che sto seguendo, è l'unico per il momento che sto seguendo su Coursera. La prima cosa da dire è il prezzo. Allora, il prezzo di Coursera per l'abbonamento annuale pagato mensalmente non è comunque poco, si parla di 32 euro al mese, ok? Quindi circa 350-380 euro l'anno. Quindi comunque è una spesa abbastanza importante sicuramente per quanto riguarda una piattaforma di e-learning. Ce ne sono molte altre come conoscete, per esempio LinkedIn Learning, assolutamente molto valida che costa circa 150 euro. Abbiamo Udemy che sono corsi on demand, quindi in base al tipo di corso voi pagate soltanto il corso, che vanno dai 19 euro fino ai 200 euro. Allora, andiamo a parlare appunto di questo Google UX Design Certification. Come è costruito questo Google UX Design Certification? Andiamo a vederlo cliccando sul link. Eccolo qua. Allora, come vedete qua abbiamo la lista appunto dei corsi, ok? Che ci sono all'interno di questa certificazione globale Google UX Design. E quanti sono i corsi? Sono sette corsi. Si parte dalla Foundation of User Experience Design, che è assolutamente il primo da prendere, ovviamente, perché è l'unico che appunto è abilitato quando iniziate, fino poi appunto a vedere la Conduct UX Research, Build Wireframe, Create High Fidelity Design in Figma, Design a User Experience for Social Goods and Prepare for Jobs, Start the UX Design Process, Emphatize, Define and Ideate, Responsive Web Design in Adobe XT. Quindi questi sono i sette corsi all'interno appunto di questa Google UX Certification. Ovviamente ognuno di questi corsi vi dà la possibilità di ottenere una certificazione intermedia, quindi per ognuno di questi corsi, cosa molto importante perché ovviamente se poi non volete farli tutti, se non siete interessati appunto a fare tutti quanti, potete anche tranquillamente lasciare dietro alcuni, però per quelli su cui siete interessati potete prendere una certificazione, che non è male insomma, è pensata molto bene. Come possiamo vedere appunto quelli appunto con il pallino in blu, sono quelli che ho già iniziato e alcuni terminato, in questo momento in cui sto registrando sono al Responsive Web Design in Adobe XT. La cosa molto interessante quando si inizia il corso sul Google UX Design appunto su Coursera, è che alla termine del primo corso, Foundation of User Experience Design, vi danno gratuitamente nove mesi di abbonamento a Adobe XT, quindi non siete obbligati a pagare nulla, vi danno un codice sconto per nove mesi e potete utilizzare appunto Adobe XT per nove mesi in maniera completamente gratuita, dato che ovviamente Figma per esempio, che è un altro dei corsi che c'è all'interno, è già di per sé gratuito, ma Adobe XT come si sa non è a gratuito, o perlomeno è parzialmente gratuito, ma non basta appunto per poter seguire il corso. Una piccola premessa per quanto riguarda la certificazione, quella che appunto viene definita certificazione Google. Allora c'è chi dice, ah ma no questa non è una certificazione Google, questo è il certificato è dato da Coursera, bla bla bla, non è vero, vabbè. Insomma, dal mio punto di vista questo è un certificato Google, ok? Perché dico questo? Perché le persone che lavorano, che hanno lavorato appunto a questi corsi, sono tutte persone che lavorano per Google, che hanno sempre lavorato per Google, UX Manager, UX Designer, Visual Designer, e lì incontrerete appunto nel vostro appunto percorso attraverso la piattaforma. Quindi è un certificato Google che appunto è dato tramite ovviamente la piattaforma Coursera, però in realtà non è Coursera che fa il corso, ok? È Google che fa il corso, quindi in realtà certificazione è Google. Andiamo a vedere ogni corso poi come strutturato. Vi faccio vedere quello su cui sono in questo momento, che è Responsive Web Design Adobe XT, cliccandoci sopra. E ecco qua che arriviamo alla landing page appunto del corso. Sono tutti così, sono tutti uguali. Qua sopra l'Overall Progress, quindi per vedere a che punto siete del corso. Gli Assignment, di cui ne parleremo un po' più avanti. E qua abbiamo appunto ogni corso poi è suddiviso in settimane. Alcune ce l'hanno di più, alcune ce l'hanno di meno, alcune 4, alcune 6. E ogni settimana praticamente abbiamo video, letture, eccetera, eccetera. Vi faccio vedere nello specifico come sono fatte. Allora, io sono alla week 6 di questo corso appunto su Adobe XD, quindi andando sulla week 6 entro nello specifico appunto della week 6. Quindi ogni settimana ci sono varie sezioni, diciamo, da seguire. E ogni sezione da cosa è costituita, vediamo qua, da video, che sono appunto quelli fondamentali da vedere perché appunto i video vi spiegano quello che dovete fare, vi danno le nozioni appunto relative al corso. Quindi se andiamo a vedere, per esempio, faccio resume, ecco qua che abbiamo il nostro insegnante che ci spiega appunto quello che dobbiamo sapere. Una cosa interessante per quanto riguarda il corso è che quando, per esempio, ci sono queste schermate con delle informazioni che magari volete annotarvi, non c'è bisogno neanche di annotarle in realtà a mano, ma potete fare semplicemente save note. Ed ecco qua, come vedete, che viene creata un istantaneo, quindi viene creato uno screenshot nel vostro profilo che potete andare a consultare in qualsiasi momento. Ok? Questo anche molto interessante. Quindi, tornando a come è strutturato ogni settimana, abbiamo video, abbiamo dei readings, come per esempio questo, in cui appunto ci sono degli approfondimenti con dei link anche a siti esterni. Ci sono le practice quiz, quindi che sono dei quiz intermedi che variano da appunto due domande a dieci domande e potete testare appunto la comprensione di quello che avete imparato durante i video, anche questi sono molto interessanti. Poi ci sono le discussion prompt, dove appunto le persone che hanno seguito o che seguiranno appunto il corso potranno appunto chiacchierare, mettere dei commenti. E poi ci sono, molto importanti invece, le practice peer graded assignment. Questi sono, diciamo, il core di tutto quello che poi andate a imparare nelle varie lezioni, nei vari corsi. Perché dico questo? Perché effettivamente ogni settimana, solitamente, ogni week, avete queste practice peer graded assignment. Cosa sono? Praticamente vi spiegano quale materiale dovete produrre per passare, diciamo così, l'esame, no? Di questa, di questa sezione o di questa settimana. Ci sono appunto le, cioè l'introduzione, vi fanno, vi spiegano appunto quali sono i criteri e i punteggi che vengono dati a quello che producete. Quindi che può essere, non lo so, un wireframe, come può essere la creazione di user persona, come può essere una user journey map, eccetera, eccetera. Quindi la qualità anche di quello che producete appunto a un punteggio. Il punteggio non viene dato, ovviamente, da degli insegnanti, ma viene fatto, come dice appunto la sezione, peer graded assignment. Quindi con i vostri compagni di corso. Quindi è come se io, in questo momento, vado a dire, a vedere il vostro lavoro e vi do un punteggio. E voi guardate il mio e mi date un punteggio. E quindi niente, quindi questa diciamo che è il core veramente del, di tutti i corsi. E mi raccomando, se avete intenzione di fare questo, di proseguire con questi corsi, non prendetelo assolutamente sotto gamba. Perché dico questo? Perché effettivamente, soprattutto all'inizio, nei primi corsi che ho seguito, pensavo che queste cose fossero, sì, ok, li devi fare, metti su un pdf, anche se non è finito, boh. O, insomma, lo passi comunque. In realtà no, perché giustamente altre persone che stanno seguendo il corso vanno a vedere il tuo materiale, quindi il pdf che hai caricato, il materiale che hai prodotto e vanno a dare un punteggio. E il punteggio, se non è sufficiente, dovete rifarlo e quindi non passate, diciamo così, l'esame e dovete necessariamente rifarlo. Se non avete completato il 100% comunque del corso, non vi viene rilasciato, ovviamente. Il certificato della sezione. Prendo questo punto proprio per parlare delle differenze che ci sono tra un corso UX, che è questo qua di Google, su Coursera, con le vagonate di altri corsi che ci sono online, su LinkedIn Learning, Udemy, eccetera, eccetera. C'è una netta differenza che io vedo soprattutto nella qualità e nella modalità in cui si impara sopra questa piattaforma. Perché dico si impara? Perché se andate su delle piattaforme come Udemy o LinkedIn Learning, per esempio, sì, avete un certificato, però questo certificato è dato semplicemente dopo aver visto il video, video di un'ora, due ore, ok? Aveteci un certificato. Qua in realtà il certificato non lo prendete. Non lo prendete se non avete fatto tutti gli esercizi. E se tutti gli esercizi non sono fatti, ok, con almeno l'80% di score. Se non raggiunete l'80% non avete il certificato. Quindi è sicuramente una piattaforma che vi dà la possibilità di imparare molto e siete, tra virgolette, obbligati, ok, a produrre qualcosa relativo a quello che imparate. Il che è fondamentale per effettivamente comprendere bene la materia. Devo essere sincero, io vengo da una carriera che è tutta incentrata, diciamo, sulla prototipazione, sul wireframing, sul testing delle applicazioni. Quindi questa parte qua le conosco molto bene. Però se andiamo indietro su, per esempio, la sezione della user research, quindi la parte iniziale, diciamo, del corso, che è il secondo corso, che andiamo a rivedere, che appunto si chiama Start the UX Design Process, Emphasize, Define e Ideate. Questo anche è un corso che sinceramente ho dovuto digerire un po' di più. Ci ho messo un po' più di tempo, ma anche perché volevo veramente appunto prendere il più possibile da questo corso. Ho fatto tutti gli esercizi in maniera assolutamente focalizzata, cercando di concentrarmi il più possibile sul risultato. Perché questo? Perché è una di quelle sezioni che solitamente meno viene, diciamo così, presa in considerazione, che in realtà è molto importante, che è la parte iniziale del UX Process, quindi della UX Research. Ah, ecco, un'altra cosa molto importante, se appunto torniamo al corso, per esempio questo, è che alla fine di ogni settimana avete i glossari, ecco qua, avete il glossario che non è altro che un Google Doc, quindi potete o entrare tramite Google Documents e utilizzarlo come modello, quindi anche tutti questi modelli sono riutilizzabili assolutamente in maniera gratuita, quindi c'è il glossario, ma soprattutto ci sono proprio dei materiali di esempio, come per esempio, che ne so, le user persona, le journey map, le empathy map, eccetera, eccetera, di cui avete dei link, ok? E potete aprire degli esempi già fatti, già preparati, che vi saranno utili e dei template che potete riutilizzare anche, voglio dire, nella vita quotidiana del vostro lavoro da UX. E anche questo video è terminato, spero vi sia piaciuto e vi sia stato utile, e che dire, come al solito mettetemi un bel like, mettete un bel commento, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!